Ti serve un'autorizzazione di oga per questo portale. Ti seguo il soggetto! Accesso consentito. Al! Siamo autorizzati a sparare per uccidere. Autore dei sottotitoli e delle caratteristiche. Non avrei mai dovuto fidarmi di te. Ricominciamo da capo. Non scherzare con me. Non hai fatto che sabotare la nostra guerra contro le teste di metallo. Da che parte stai? Ascolta, Ashley, tuo padre sta progettando qualcosa di terribile. Mio padre può distruggere tutte le armate delle teste di metallo. Se riesci ad aprire la pietra del precursor, l'esplosione che causerà potrebbe ucciderci tutti, lo capisci? È così, non è troppo difficile. Persino io ho capito tutto. Non vi muovete. Vin, rispondi. Cosa? Che c'è? Ho un sacco di cose da fare. Tu sai tutto sul mito della pietra del precursor, no? Sì, mi avanza il dottorato in energia iconica sulla fisica teorica precursorica. Perché? Cosa accadrebbe se la pietra del precursor venisse, diciamo, aperta violentemente? Fantastico! Come se non avessi già pensieri che mi tengono a sveglio la notte! Ecco qualcos'altro da temere! Grazie tante! Se qualcuno aprisse la pietra, stando ai miei calcoli, l'ondata di energia eco che si svilupperebbe in quel momento, teoricamente dovrebbe distruggere tutto! Hai detto tutto, Vin? Ogni cosa! Ogni singola cosa! Ora, se non ti dispiace, penso che andrò a vomitare. Ciao, ciao! Fidati di me, Ashley, dobbiamo fermarlo. E va bene. Cercherò di scoprire qualcos'altro. Ma proprio ora mio padre sta incontrando crew alla fabbrica d'armi segreta, vicino allo scavo. Tieni, questo è il mio pass di sicurezza di livello elevato. Servirà per entrare nella fabbrica, ma non servirà per uscirne. Noi non ci siamo mai parlati, d'accordo? Noi non ci siamo mai parlati, ma non ci siamo mai parlati. Noi non ci siamo mai parlati, ma non ci siamo mai parlati. Speratevi! 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 Questo ragazzo sa come consentono! Speratevi! 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 No, ritiratevi! No, ritiratevi! No, ritiratevi! Siamo sotto attacco! Siamo subendo perdite, mandati rinforzi! Questo ragazzo sa come con me! Siamo subendo perdite! Sbaccate qualche testa! Miserica copertura! C'è l'arresto! Miserica copertura! 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 Piano subito, perdite! Il ragazzo santo è completato. Mantenetele! Non ritiratevi! La squadra abete è andata! Non ritiratevi! La squadra abete è andata! Non ritiratevi! 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 Perfetto, perdite! Arrediti! Torno di qualche testa! Il ragazzo sale con le contate! Attenete le posizioni! Non ritiratevi! La squadra Vete è andata! La squadra Vete è andata! Non ritiratevi! No! Non ritirare! Non ritirare! Non ritirare! Siamo sotto attacco! Siamo subito perdite! Mandati rinforci! Siamo subito! Non ritiratemi! La squadra Bette è andata! Mi servono uomini! Siamo sotto attacco! Siamo subito aperto! Siamo subito! 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 Via, via, via! Ricordatelo! Notete le posizioni! Non ritiratevi! La squadra a B! Mi servono! Non ritirà! No! 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 Stiamo sotto attacco! Stiamo subendo perdite! No! 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 Siamo subito a perdite, battagli rinforzi! 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 Mi serve copertura! Siamo subito a perdite, battagli rinforzi! Siamo subito a perdite, battagli rinforzi! Siamo subito a perdite! Muoviamoci! Siamo subito a perdite! Siamo subito a perdite! Siamo subito a perdite, battagli rinforzi! Siamo subito a perdite, battagli rinforzi! Siamo subito a perdite, battagli rinforzi! Siamo subito a perdite! Siamo subito a perdite! Siamo subito a perdite, battagli rinforzi! 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 Siamo subito a perdite! Stiamo sotto attacco! Stiamo subito a perdite! Stiamo subito! 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 Eccone uno per la guardia. Eccone uno per la guardia. Eccone uno per la guardia. Accesso consentito. Chiudete l'aria! Avevi ragione, Jack. Ciò che sta facendo mio padre è sbagliato. Mi serve il tuo aiuto. Se riesci a entrare nella fabbrica d'armi, forse possiamo fermarlo. Ci vediamo là! Grazie a tutti!